Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un gioco molto molto interessante per iOS. È un manageriale di calcio dove dovete gestire la vostra squadra sotto vari aspetti, quindi dall'allenatore ai trasferimenti dei giocatori, nello stadio, le varie strutture ed è accessibile. E si chiama Football Chairman, scritto F-O-O-T-B-A-L-L Chairman, C-H-A-I-R-M-A-N È disponibile in due versioni, una free che ha delle limitazioni quindi potete giocare solo nel campionato inglese e fino a 30 stagioni e anche altre limitazioni, per esempio non ha tutte le coppe non possiamo gestire tutte le funzioni del gioco quindi alcune funzioni di gestione della squadra non ci sono e mancano anche altre cose. Questo gioco è disponibile da anni sullo store era però in inglese, quindi non l'ho mai dimostrato è stato recentemente per fortuna tradotto anche in italiano ecco, vi consiglio di acquistare la versione Pro a 3,49 euro perché dà anche la possibilità, tra le altre cose di giocare nel campionato italiano all'attivazione potete aprire un nuovo gioco vi verrà chiesto il nome, prima di tutto vi verrà chiesto il vostro nome quindi il nome del presidente poi, se volete, quale dati volete utilizzare per giocare se nella versione Free avete solo l'inglese solo il campionato inglese nella versione Pro avrete molti altri campionati compreso l'italiano da scegliere se proprio avete voglia potete anche creare uno voi con l'editor online disponibile sul sito del gioco che ora, non ricordo comunque dovrebbe essere www.footballchairman.com comunque se cercate su Google sicuramente lo trovate o anche nell'app e solo che insomma creassi un campionato da zero non è molto non è una cosa da poco secondo me ci si mette un bel po' il gioco è veramente accessibilissimo adesso vi faccio vedere lo apriamo apri FC Pro eccoci immagini simbolo copyright 2017 footballchairman permette agli utenti di creare eventi storici reali i nomi di terze parti sono usati le varie licenze che i nomi sono utilizzati solamente per il gioco per il gioco ecco 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 footballchairman non è sponsorizzato né associato a terzi calciatori, club organizzazioni e underground creative si riserva di non rappresentare sponsor o associazione alcuna continua andiamo avanti andiamo continuo e vediamo come funziona la schermata principale allora qui siamo quasi all'inizio di una nuova stagione quindi intanto vi faccio vedere come è la schermata principale prima di tutto vediamo il pulsante help che serve per darci una breve descrizione dell'attuale schermata adesso proviamo ad aprire e vediamo che cosa c'è ok vediamo come funziona intanto abbiamo questo test screenshot allora vediamo second allora anticate mode serve praticamente adesso vi faccio sentire anticate mode avviso un salvataggio per stagione footballchairman non prevede più di un salvataggio del gioco per stagione questo inoltre ti permetterà di includere la tua carriera nelle future classifiche dei migliori ponteggi e competizioni se invece salverai il gioco più di una volta in una stagione oppure importerai un salvataggio da una versione precedente di footballchairman questa icona diventerà grigia ok quindi per poi fare in modo che il nostro punteggio vada appaia nelle classifiche del gioco si può salvare solo una volta per stagione altrimenti non sarà possibile settings e impostazioni le vedremo dopo nome della squadra 2016-17 16-17 quindi la stagione serie di tre serie di tre è la serie del campionato luglio 2017 siamo a luglio mercoledì mercoledì settimana 49 della stagione quindi sta finendo siamo arrivati ottavi in questa stagione nella nostra serie il capitale è un po' bassino qui possiamo entrando entrando qui possiamo vedere il nostro bilancio il saldo bancario il saldo il saldo abbiamo 4.000 euro di possiamo andare in rosso di 4.000 euro andiamo alle varie paghe vuoi più soldi vuoi più soldi ecco possiamo qui entrando qui usando degli acquisti in app oppure mettendo mi piace alla pagina ecco possiamo ricevere 20.000 euro 30.000 euro per essere su twitter e qui invece acquistando proprio degli acquisti in app possiamo aumentare il nostro capitale nel gioco non è possiamo giocare anche senza fare questi acquisti ovviamente più soldi abbiamo più possiamo acquistare giocatori eccetera vediamo trasferimenti dove abbiamo possiamo fissare possiamo scegliere quanto possiamo trasferire quanto possiamo usare nel nostro saldo per comprare giocatori nuovi possiamo fissare qua il valio adesso non ci interessa continuiamo squadra 33 questo è il valore della nostra squadra più alto il massimo è 99 più alto ovviamente meglio è entrando qui possiamo vedere la nostra squadra per i vari domini di giocato con la posizione il valore la forma fisica la felicità e la forma fisica l'età la sedenza del contratto entrando poi nel singolo giocatore possiamo vedere altre informazioni le varie statistiche e poi le informazioni sul calciatore formatuale scarso forma fisica ottimale ed è felice bellissimo e questa è la squadra in fondo abbiamo anche la statistica della squadra e le partite goal dove possiamo vedere quanti quanti paghi hanno giocato i singoli calciatori e quanti goal hanno fatto se l'hanno fatto possiamo vedere anche le paghe dei vari giocatori comunque tutto quello che riguarda la nostra squadra allenatore 33 qui possiamo vedere le informazioni sul nostro allenatore e questo è un valore come la squadra più alto più un allenatore bravo record allenatore e da un is 41 euro i maiuscola 35 i acrimonesi punto di riferimento questo è un affetto allenatore i maiuscola 30 a maiuscola allora abbiamo tre parametri per allenatore le partite quindi come si comporta in partita 35 a maiuscola 31 come si comporta negli allenamenti e i maiuscola 35 nei trasferimenti 3 4 3 passaggio 100% felice è felice e 3 4 3 è il modulo di gioco per esempio il salario eccetera qui in fondo possiamo esonerarlo vedere altri allenatori di disposizione possiamo vedere quanto quanti partite ha vinto quanti ha perso eccetera e possiamo anche esonerarlo e anche assumere membri dello staff tecnico verranno assunti possiamo assumere i preparatori il fisioterapista eccetera che aumentano comunque le qualità del nostro allenatore aumentano le qualità ma aumentano anche i costi di costi per la squadra ok continuiamo allenamento 35 queste qua sono le strutture per l'allenamento entrando qui possiamo aumentarle più è alto il valore più è alto il valore di struttura allenamento meglio i giocatori saranno in grado di allenarsi entrando qui possiamo strutture per l'allenamento valutazione 35 35 il costo mensile 66 euro il costo mensile possiamo diminuire o aumentare vi posso aumentare aumentare le strutture di 5 o di 1 il primo che aumenta di 1 il secondo di 5 il primo che aumenta di 1 il primo che aumenta di 5 il primo costo mensile 153 euro saldo bancario 158 euro finalmente qua ora io non lo faccio per se lo vediamo come funziona perché il prezzo è un quarto i giovanili 35 come l'allenamento questa è una struttura per l'allenamento questa è una struttura per la squadra giovanile e anche qui se aumentiamo è meglio avremo più giocatori giovanili promettenti ovviamente il prezzo aumenta trofei 0 trofei non ne abbiamo quindi qui ci sono i vari trofei che abbiamo vinto successi i successi non ce ne sono il record abbiamo i vari record della squadra adesso non entro comunque sono i vari record quindi quante la vittoria e la scuola è più pesante il numero di spettatori massimo nello stadio eccetera qui abbiamo qui abbiamo il resoconto della squadra quello che ha vinto quello che ha vinto la squadra qui abbiamo i tifosi soddisfatti l'allenatore quanto è quindi felici 89% i tifosi e 99% l'allenatore entrando qui possiamo vedere le aspettative di tifosi eccetera eccetera poi abbiamo lo stadio lo stadio qui possiamo ampliare il nostro stadio vedete abbiamo le varie curve quando è stato costruito e quanti posti a disposizione cliccando su un nome di una curva possiamo poi ricostruire quindi di aumentare i posti oppure rinominare la tribuna in un altro modo possiamo aumentare la capacità e scegliere anche la velocità di costruzione lento veloce allora per esempio se io adesso voglio aumentare la capacità allora posso scegliere quindi quanto aumenta 400 quindi ora diventerebbero 400 quindi sono aumentati e posso scegliere anche però se costruirli più velocemente o no se vedete adesso ora i costi sono 5300 euro in 6 settimane se io metto veloce i costi aumentano diciamo ci mette 3 settimane adesso io non non lo faccio però non indietro poi possiamo anche costruire un super stadio ma ci vogliono molti soldi o possiamo anche acquistarlo con un acquisto in app e abbiamo anche le strutture dello stadio cioè vedete ci beve mercandising posso quindi comprare aggiungere un posto dove i tifosi possono andare a mangiare o anche un bar per esempio apriamo il furgone di hamburger per esempio apri un nuovo furgone degli hamburger immagine apri un nuovo furgone 158 euro conferma ma c'è denaro ecco con ogni vendita un euro un furgone punto 2000 e permetterai punti vendita di cibo 500 euro aggiungere un nuovo furgone degli hamburger costerà 500 euro vedete e permetterai punti vendita di cibo e bevande del tuo stadio di far fronte a un pubblico massimo di 2000 punto il furgone degli hamburger può generare profitti fino a un euro con ogni vendita denaro 158 euro conferma annulla io se non acquisto passiamo pochissimi soldi no ecco ho acquistato ecco ho acquistato non volevo farlo ma me l'ho acquistato ho fatto conferma pazienza sono contenti per questa notizia fine continua navigazione continua un allenatore abbiamo aggiunto un nuovo furgone di hamburger adesso però avrò anche un vantaggio perché avrò più soldi più ricavi infatti ecco ci andiamo a vedere adesso in stadio andiamo allo stadio ecco e vediamo che adesso nelle strutture nelle strutture dello stadio ho due furgoni non più uno quindi ora fino a 2.000 posti posso anche aggiungere per esempio del merchandising non lo facciamo annulla acquistiamo mettiamone un altro ecco fatto acquistato tifosi sono contenti per questa notizia benissimo abbiamo poi dopo lo stadio il presidente quindi abbiamo qui l'informazione sul presidente quindi che trofei ha vinto eccetera ok poi abbiamo questo S V sono le ultime partite che abbiamo vinto pareggiato adesso andiamo su continue vediamo cosa succede vediamo il rapporto finanziario ogni settimana c'è questo rapporto finanziario dove vedete siamo in perdita di 3.000 euro perché abbiamo acquistato gli stand regali e il furbolo degli ambure andiamo avanti continua dopo aver letto la notizia c'è sempre un continuo in fondo allo schermo continuiamo facciamo ancora continua fissa il prezzo del biglietto e facciamo 4 euro ovviamente più il prezzo è alto più guadagneremo però attenzione perché il prezzo è troppo alto scoragirà i tifosi a venire allo stadio e fissiamo il prezzo dei biglietti gli opinionisti fanno i loro pronostici con la pausa estiva che volge al termine gli esperti di media guardano già la prossima stagione nella serie di 3 gli opinionisti prevedono che ci saranno corregge se l'olbia saranno in lotta per il titolo si punta a una buona stagione per San Cesareo Dell'Uno e Union Pro dal toccato le previsioni suggeriscono una stagione di lotta per Montevilluna lavagnese e argentina fine con la pausa estiva che volge al termine gli esperti di media guardano già la prossima stagione tutto molto accessibile se non vedete il tasto continua toccate in fondo allo schermo che è sempre che poi lo troverete perché a volte il film non funziona i tifosi reagiscono ai prezzi dei biglietti i tifosi del club Sanfermo sono felici dell'annuncio dei prezzi dei biglietti fine felici dei prezzi dei biglietti continuiamo 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 la settimana è passata ancora saldo il rosso qui c'è un'offerta per un nostro giocatore in questo per esempio nell'altro ci consiglia di venderlo tranquillamente e noi lo vendiamo quindi accettiamo l'offerta e lo vendiamo ancora finanze ok perfetto e confermiamo la vendita ok continuiamo facciamo sempre continua non c'è niente di nuovo sempre saldo il rosso la perdita è stata molto elevata perché comunque ho comprato giocatori eccetera riduzione delle imposte poiché il club indabito è registrato una perdita Axanfermo ha ricevuto una riduzione delle imposte pari 8.001 euro punto fine poiché il club indabito è registrato continua la riduzione delle imposte tra l'attivo i seguenti club sono disponibili per l'acquisizione 4.600 i seguenti club sono disponibili per l'acquisizione l'attualmente 4.661 euro in banca San Cesario Rega 1 Colonna 210.000 euro Colonna serie 3 Colonna valutazione 34 stadio 800 Colonna Ah qui possiamo Possiamo acquisire un club già esistente Beh non ci interessa Questa la trovo, non mi interessa Quindi noi siamo nel nostro club Non ce ne andiamo Ok, nuova stagione Ok, continuiamo Ok, lo sponsor ci ha pagato Per questa stagione Possiamo, quando scadrà il contratto Puoi scegliere un nuovo sponsor Un amichevole Vediamo chi abbiamo Caravaggio Caravaggio Scegliamo Caravaggio San Colombano San Colombano San Colombano San Colombano Vediamo retta l'allenatore Scegli avversario Navigation Scegli avversario L'allenatore a Cremonesi è contento Che tu abbia seguito il suo consiglio Riguardo l'amichevole di precampionato E non vede l'ora che inizi la partita contro Continua Ok, adesso In fondo allo schermo Non c'è più continua Ma c'è il nome della squadra Con cui dobbiamo giocare Entriamo Partita in casa Ecco Qui diamo la nostra formazione Calcio d'inizio O fine Se vogliamo vedere la partita Cioè Vedere Ci sono anche dei suoni Vi dice se ha segnato qualcuno Facciamo calcio d'inizio Altrimenti Se vogliamo saltare direttamente Alla fine Facciamo fine E facciamo calcio d'inizio Sentiamo come funziona Calcio d'inizio Virgola L'atmosfera tra gli Zero Calcio d'inizio L'atmosfera tra gli spettatori Che ti fanno a San Fermo È piuttosto rumorosa Il tempo è foso Vedete che sto giocando Ecco 45 Intervallo Zero 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 Caccia d'inizio L'atmosfera tra gli spettatori Che ti fanno a San Fermo È piuttosto rumorosa Schermo oscurato Ecco Caccia d'inizio E poi E poi l'atmosfera Segnato 81 A San Fermo 2 Ferrari 45 Intervallo 0 0 0 85 90 Fine partita 1 85 1 1 San Colombano 81 Ok Qui possiamo Vedere i spettatori Fine partita 1 Il tempo è foso Fine tabella Tutti i risultati No Il tempo Ecco Continua Continua Navigation San Colombano Fine 1 1 AC San Fermo 1 1 San Colombano AC San Fermo Tutte le altre partite In questo caso Ce n'è stata solo una Quindi c'è solo una nostra E continuiamo Nuovo record Serie di partite in battute Immagine La serie di dieci partite in battute del club San Fermo È la più lunga Da quando sei diventato presidente Nuovo record I tifosi sono contenti Della recente ottima forma Del club Fine Perfetto Continuiamo Continua Richiesta bonus Vittoria calciatori I calciatori si sono avvicinati A te per chiederti Se avresti offerto loro Un bonus per ogni vittoria Totalizzata nel corso della stagione Il bonus sarebbe una percentuale Del loro salario settimanale Ad esempio Un calciatore che guadagna 100 euro a settimana Riceverrebbe 10 euro extra Nessun bonus Vittoria 10% bonus 10% bonus Conferma opzioni bonus Navigation Conferma opzioni Calciatori soddisfatti per l'offerta bonus I calciatori del club Sanfermo sono felici Che il presidente Luca Magliani Abbia concesso un bonus 10% Continua Navigation Continua 2017-18 Serie di 3 Acci Sanfermo Settimus Agosto 2017 Mercoledì Supercoppa Navigation Punto di riferimento Supercoppa Noi non giochiamo In questo caso Punto di riferimento Però possiamo vedere Com'è andata Bologna Min Zero Uno Inter Fine Continua Navigation L'Inter Ha vinto contro Bologna Continua Navigation Inter vince Supercoppa Inter ha vinto la Supercoppa Con una vittoria contro Bologna Tutto il ricavato della partita E l'incasso dei biglietti Sono stati donati in beneficenza Fini Continua Navigation Continua Rapporto finanziario Scorsa settimana Continua 600 Profitto 619 euro In questo caso Ecco Andando in fondo Potete vedere il profitto 600 euro In profitto Perché abbiamo guadagnato qualcosa Questa settimana Continua Navigation Centrocampista Grande richiesta È stata fatta un'offerta Di 200 euro Perenne Fontana L'allenatore sente che è un giocatore importante E dovrebbe rimanere Rifiuto Accettato Unifichiamo l'offerta in questo caso Di maiuscola Individuato nuovo ingaggio Qui bisogna comprare Il difensore L'allenatore ce l'ha consigliato Sicuramente Non possiamo permettercelo Perché non abbiamo soldi Quindi non compriamo nulla Continua Navigation Continua Fuia dell'allenatore Per il trasferimento L'allenatore era furioso Perché ha scelto Di non ingaggiare il giocatore A cui puntava Fine Non abbiamo soldi Continua Ac Sanfermo inizia la stagione Con un viaggio verso Union Pro Ac Sanfermo inizia la stagione 2017-18 In lega questo weekend Con la partita in fuori casa Contro Union Pro Le due squadre credono di essere Allo stesso livello Il risultato potrebbe favorire Entrambe le parti R Fontana ha preso un leggero Continua R Fontana ha preso un leggero colpo Durante l'allenamento E non ha passato da prova Di forma fisica Fine Continua E vediamo questa partita Navigation Serie di tre Union Pro FC Fuori casa FC Unifichiamo Union Pro E vediamo cosa succede Serie di tre Vediamo che succede Vediamo se è riuscito Iniziamolo 45 Intervallo 0-0-0 Calcio d'inizio L'atmosfera tra gli spettatori Che ti fanno A Sanfermo è rumorosa Il tempo Schermo è oscurato Calcio d'inizio E abbiamo 1-1 Qui possiamo vedere Tutti i risultati E ecco la classifica Della Lega Ecco Squadra Punteggio Vediamo l'aiuto Il tempo Ok E questa è la classifica Continuiamo Ok, si ritira Ok Ecco questo è Ok Ok E questo è FubuCherman come funziona È molto molto accessibile come vedete Vediamo un attimo le impostazioni Settings Allora qui possiamo Registrarci sui loro server per salvare il gioco Caricare il gioco Salvere il gioco Nuovo gioco Se vogliamo inserire un nuovo gioco La lingua Che in questo caso è italiano In questo caso vediamo le impostazioni In questo caso vediamo le preferenze del gioco Le impostazioni La velocità della partita Praticamente quanto dura la partita Se vogliamo mettere normale Lento o veloce Gli effetti sonori La valuta Il dollaro è di nuovo La valuta attuale non verrà convertita in base ai tassi di cambio eccetera Variabilità altre squadre On o off Bella grafica Prova a impostare questo Conferma Nobiga Conferma Queste qua sono le impostazioni Prendiamo indietro Colonna Grafiche vettoriali Prova a impostare Conferma Conferma Rega 1 Colonna 2 Velocità cron Pref 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 Imposta la velocità per il cron Conferma Indietro Conferma Prova a impostare questo Su Le grafiche vettoriali Off Rega Pan Off Queste qua sono le impostazioni Off Rega Pan Effetti sono Molto lento Lento Non Veloce Rega Imposta la velocità per il cron Off Ok questo è Fulbo e chairman Possiamo uscire Vi ho fatto vedere un po' come Come funziona E' molto molto interessante Vi ricordo Vi consiglio di acquistare La versione Pro A 3,49 euro Che ha tutte le funzioni Si gioca offline Quindi non necessaria Neanche la connessione All'internet Quindi Meglio di così Possiamo sempre giocare Anche se non abbiamo Connessione Ecco direi che possiamo Concontrare qui Ringrazio come sempre Chi mi segue Se avete Poi commenti Possiamo parlare Nel gruppo Di voi Sovra su Whatsapp Per chi è iscritto Oppure comunque Commentando su Youtube Vi do appuntamento Alla prossima A presto Ciao a tutti Ciao a tutti